buona giornata a tutti e ben ritrovati per questo appuntamento di tonificazione e un po di cardio allora andiamo innanzitutto a camminare sul posto se vuoi puoi usare i pesetti le cavigliere altrimenti fai sempre come al solito al corpo libero scegli sempre tu la tua intensità la tua velocità e ascolta il tuo corpo goditi un po questo riscaldamento e ogni volta che aumenta un po lo sforzo butta fuori l'aria puoi espirare dalla bocca oppure se vuoi anche attraverso le narici ora piegati nello squat quindi ispira e espira mentre sali scendi e sali hop e là porta le braccia davanti a te e su due tre quattro cinque sei sette e otto adesso stai fai un po di addominali uno e due tre quattro e cambio lato su e stringi l'addome rimani sul piano frontale il braccio sopra e di fianco all'orecchio ancora da un lato e dall'altro quattro volte due tre quattro e soltanto due focalizzati sull'addome premi l'ombelico all'interno e uno due ancora uno due e ancora soffia via e ora camminata sul posto vai respira in modo naturale adesso porta il pesetto o la mano sotto al ginocchio opposto pronti via uno e due tre quattro cinque sei sette sette otto e ancora otto sette sei cinque quattro tre due uno e vai con lo squat vai uno due tre quattro fletti le braccia e cinque se riesci scegli un po' di più altrimenti un pochino meno e otto e braccia verso l'esterno e due tre quattro e ancora fletti cinque sei sette e otto e ora esterno coscia vai apri e chiudi apri se vuoi appoggiati a un appoggio quattro cinque sei sette otto stessa gamba dietro gluteo e nello stesso tempo facciamo il precipite e otto e tre e quattro cinque sei sette otto cambio gamba e l'altra vai fuori e due tre quattro cinque sei sette otto vai verso il muro e dietro uno due tre quattro cinque sei sette sette otto e vai al ferma sempre glutei vai uno squat in mezzo sali calcio dietro e scendi sali cambio gamba e su e dietro e su dietro e ancora e su scendi e sali scendi e sali uno due tre quattro cinque sei sette scendi e sali e uno due tre quattro cinque sei sette stai più dritto possibile con la schiena otto apri le gambe e adesso scendi e fletti le braccia mentre sali scendi e sali e otto tre quattro e cinque sei sette e otto la mano verso la caviglia opposta sposta e cambio e cambio la e due e su e su e su e su l'ultimo e di nuovo in mezzo vai vai e su e stira bene mentre sali cinque sei sette e otto e chiudi un po' le gambe braccia candeliere vai su e e giù le gambe e giù le gambe braccia opposta due tre quattro cinque sei sette e otto rimani su soltanto precipiti pecchi e stendi le braccia opposta scendi piano sei sette e otto e scendi giù vai marcia sul posto respira un po' andiamo a fare gli affondi dietro quindi recupera un pochino respira ovviamente sali bene col ginocchio se ce la fai e adesso facciamo un bel passo dietro affondo affondo e torno avanti e affondo una gamba e l'altra e quattro e cinque sette sette facciamo un bel passo troppo troksi e non конечно facciamo un bel passo e vai, apro, chiudo, e due, soffia mentre sollevi la gamba, quattro, cinque, sei, sette, e otto, e ancora, soffia, se non ce la fai a chiudere ovviamente arriva dove riesci, e tre, sette, e otto, e stai, braccia su, ancora, freddo, e stendo, e sette, e otto, rimani quattro volte, vento, e tre, lento, e due, uno, e da qua, appoggia i tuoi piedetti, appoggia le mani sul muro, estendi una gamba, e fletti il ginocchio in avanti, estendi dietro, due, cerca di tenere la schiena il più ferma possibile, e quattro, cinque, soffia, sei, sette, e otto, rimani dietro, piccole contrazioni dei gluteo, forza, su, 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 e stai, fletti, e spegni, fletti, e spegni, e sette, otto, porta il ginocchio in avanti, e stai un attimino, sciogli una caviglia, e vai, cambia gamba, appoggia, e l'altra gamba dietro, e avanti, inspira, e soffia, e, quattro, cinque, sette, sette, otto, resta dietro, su, 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 vai, rimani, rimani, attiva bene il gluteo, fletti, e stendi, rimani su col ginocchio, forza e coraggio, e quattro, cinque, sei, sette, otto, e vieni avanti, e sciogli un attimino, ok, adesso rilassa un attimo, afferra la caviglia, allungati un po', allungati in avanti, appoggia il piede al muro, puoi estendere la tua gamba se ci arrivi, se ce la fai, altrimenti mantieni laddove arriva, e cambia l'altra quadricipite, afferra, stretch, giusto per fare un pochino di allungamento, ma se vuoi continuare ad allungarti, segui un altro dei miei video di stretching, che sono lunghi e belli, tutti dedicati allo stretching, quindi continua a seguirmi, e sciogli, e ispira, allungati un pochino, anche nei principi, cambio, e ispira, e soffia, bravissima per essere arrivato fino qua, senti già il tuo corpo, un po' più riscaldato, un po' più attivo, adesso puoi andare a fare una bella camminata, o continuare a seguire qualche altro mio video, possibilmente di yoga o di stretching, o ancora cardio, se vuoi, se è abbastanza tempo, mi raccomando, continua a seguirci, se vuoi fare l'iscrizione, se non l'hai già fatta, al mio canale, e anche al nostro meraviglioso gruppo Facebook del mio metodo Silva Yoga, buona prosecuzione di giornata! Grazie a tutti!